Deve subito mettersi alle spalle la sconfitta di Bisceglia e la Delfest di Robustelli. I biancoverdi, dopo il K-O contro i pugliesi, pesanti in cui hanno retto solo nel primo quarto, riprendono oggi ad allenarsi in vista del match interno contro il Cus Taranto. Servirà riscatto non solo con una prestazione importante, ma anche con una vittoria, considerando che è stata la peggiore prova dei biancoverdi da quando è iniziata la stagione. Esagerato il numero delle palle perse da Spizzicini e compagni, In tre sfide di campionato, gli Irpini hanno preso 14,7 punti di media, disarmante non solo la partita contro Bisceglia, ma anche quella contro Cassino. Avellina ad oggi non è una formazione in grado di ribaltare il match, una squadra priva di personalità necessaria in incontri con team più quotati ed esperti. Domenica al Del Mauro servirà riscatto, ma è chiaro che per rialzarsi questa Delfest dovrà intervenire anche sul mercato per completare un roster che ha mostrato evidenti lacune.